Sono Manuele Verdelli e sono il direttore commerciale di Capannelle. Questo è il nuovo nato per noi, è il bambino di Capannelle, nato qualche anno fa, è il nostro Chianti Classico Gran Selezione. E proprio perché il nuovo nato gli vogliamo, se vogliamo dire così, un po' più bene, perché va ancora cullato, va ancora spettato, e quindi è bello vedere l'evoluzione di un nuovo vino nella gamma di Capannelle. Vorrei far provare il bicchiere di vino all'interno della nostra azienda. Questo sarebbe il sogno poco realizzabile forse, ma per una piccola cantina come Capannelle non è così difficile da realizzare il fatto di poter provare i propri vini all'interno della propria azienda e cantina, perché è solo così che si può far capire al 100% gli sforzi dell'azienda, l'impegno delle persone e le sfumature, i dettagli che sono circondati e circondano l'azienda e il vino che viene prodotto. Quindi se io potessi vorrei vendere il vino solamente entrando in azienda con il cliente.